Ciao a tutti ragazzi, siamo qui per un nuovo assaggiamo con queste patatine che sono delle hummus chips al gusto aneto. Vi faccio vedere da vicino il sacchetto, appunto c'è l'immagine con la descrizione sulla parte davanti, mentre sulla parte dietro abbiamo la descrizione un pochino più dettagliata con gli ingredienti e anche i valori nutrizionali a chi interessano. E' un sacchetto di patatine che dovreste trovare alla Lidl relativamente facilmente quando fanno le promozioni, prodotti bio, vegani, vegetariani eccetera, quindi tenete d'occhio il loro sito o appunto i volantini. Apriamo il sacchetto. Ok, il profumo devo ammettere non è che mi entusiasta molto, ma in realtà non sono una grande amante dell'hummus, sono provato e come vedete appunto le patatine somigliano abbastanza a quelle che ci sono sull'immagine della confezione. Assaggiamo. Devo un pochino ricredermi perché appunto all'inizio si sente abbastanza il gusto dell'hummus e quindi un gusto un pochino particolare, ma comunque sia il retrogusto è molto piacevole perché appunto ha un retrogusto di anetto che non è eccessivo, anche perché appunto si rischia di avere la bocca che sa di anetto e basta. Invece diciamo che è ben dosato, appunto se le vedete le patatine ci sono questi piccoli, ci sono dei piccolissimi pezzettini di anetto ma non sono ricoperte. La mangio dopo la patatina. Quindi assolutamente consigliate, se volete mangiarvi delle patatine, certo sono comunque patatine ma sono almeno un pochino più sane rispetto a quelle che vengono fritte eccetera. Quindi ve le consiglio se dovete trovarle. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se non lo siete, attivando anche la campanella. In descrizione trovate link a tutti i miei social in cui potete seguirmi anche al di fuori dei video settimanali di YouTube. Se le avete provate, se le avete assaggiate, fatemi sapere cosa ne pensate in un commento qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video, have a nice life!